Dal Teatro Martinitta di Milano, bentornato, un ritorno graditissimo su teatro.online Alessandro Tirocchi, ciao Ale, Maurizio Paniconi, ciao Maurizio e Valeria Monetti Ciao Ale, allora, perché c'è la crisi dei matrimoni religiosi? Perché c'è una crisi in realtà di identità, di valori, di significato, di significato, un po' di tutto per cui ha un po' perso la connotazione e il valore che forse fino a una trentina d'anni fa poteva avere, era visto come un passo quasi, forse l'unico per poter vivere in coppia una storia d'amore per poter formare una famiglia, fortunatamente, anche se ultimamente il contorno politico sembra dire il contrario però fortunatamente, siamo nel 2024, la civiltà malgrado qualcuno tenti, qualche potente tenti di farla arretrare invece procede e va avanti, per cui sposarsi in chiesa non è più l'unico modo per poter ufficializzare un rapporto di coppia, fortunatamente, e quindi ecco perché insomma pensiamoci sia questa sorta di crisi non è più l'unica via Ecco però contestualizziamo un po' perché sono entrato un po' a gamba tese in realtà con la domanda cioè, ok, lo spettacolo si chiama quasi quasi ci ripenso voi avete scritto il testo, tu non l'inizio, ma Gianni Quinto che ha fatto la regia, no, la regia l'ha fatta Andrea Palotto scusa, ah no, allora mi hanno informato male, vuoi ripetere il nome del regista, Andrea Palotto grazie, è la storia di un classico matrimonio che non sa da fare, mi par di più o meno, no? sì, e questo Don Gino è un... ti correga questo, ti hanno dato un'altra... Don Nino Don Nino, ecco, non ne sto azzeccando uno no, no, ma non te, non te scusate non sei tu allora, Don Nino è un prete un po' sui generis, un po' anticonformista molto, molto, sì sì, Don Nino è assolutamente un prete molto poco canonico usando un giro di parole che ha un passato burrascoso diciamo, un passato, come dire, neanche da nascondere ma che l'ha formato in un certo modo molto di strada, è cresciuto in strada, la strada l'ha portato a sbagliare e questo passato poi lui è riuscito a convertirlo in un percorso differente nella sua visione però del, diciamo, del fare il prete, della missione del prete e vedremo durante lo spettacolo il quasi quasi ci ripenso di Don Nino è proprio un quasi quasi ci ripenso alla sua condotta però anche Greta e Riccardo hanno un viaggio che li porterà a un certo momento a dire quasi quasi ci ripenso o no? assolutamente sì nel senso che questo quasi quasi ci ripenso in realtà spiazza un po' perché uno potrebbe pensare che quasi quasi ci ripenso e quindi non mi sposo in realtà poi alla fine succederanno delle cose per cui ci renderemo conto che questo quasi quasi ci ripenso è visto da un punto di vista completamente diverso insomma e quanto è surreale questo interrogatore che viene sottoposto alla coppia? è surreale quanto reale perché in realtà il processetto è un praticamente è qualcosa che esiste proprio per coloro che si vogliono sposare in chiesa si va in canonica con il prete e si risponde ad alcune domande alcune che ormai sono rimaste abbastanza arretrate per cui è surreale perché è reale in realtà però sì diciamo che alcune di queste domande insomma lasciano un po' il tempo che trovano però anche Don Nino sarà obbligato a farle e loro saranno soprattutto obbligati a rispondere diciamo che è un perenne contrasto tra alcune istituzioni che sembrano e a nostro avviso sono superate nella concezione che hanno sempre avuto e forse nel modo in cui sono nate e si sono sviluppate e il forte contrasto con le esigenze di oggi e soprattutto non è una crisi di fede o una crisi in un riferimento d'amore universale quello no, è tutto il contorno che risulta veramente antico e in questa storia ognuno dei protagonisti fa un percorso che rompe, spezza delle regole avrà modo di conoscersi molto attraverso le domande sul matrimonio ma anche diciamo la vita di loro tre in quei tre giorni perché si parla di un ritiro prematrimoniale perché per ottenere parte tutto da un presupposto che noi abbiamo forzato in una maniera un po' fiction cioè la curia e la chiesa istituisce un bonus da 20.000 euro per sposarsi in chiesa proprio perché ormai c'è un bonus in questo punto per cui abbiamo pensato che il bonus casa, il bonus macchina a questo punto perché non un bonus matrimonio dal momento che il matrimonio in chiesa è in crisi Greta e Riccardo le vogliono approfittare ma semplicemente per il vantaggio economico si amano, già convivono non ci sarebbe motivo, non ci sarebbe necessità di questo passaggio ecclesiastico ecco diciamo così ed è là la prima incoerenza con tutti questi meccanismi che sono superati e in questi tre giorni loro avranno modo di conoscersi avranno modo di confrontarsi, avranno modo di capirsi di capire dove sono le incongruenze della loro vita e fare delle scelte hanno detto che ho letto che il primo atto è più leggero mentre il secondo è più impegnato cioè un po' di risvolto sociale ma sei soddisfatto? è una cosa positiva secondo te no vabbè se scopriamo troppo non diciamo nulla nel senso che nel primo atto c'è questo primo nel primo atto conosciamo i personaggi li conosciamo nelle loro caratteristiche più estreme ovviamente sempre nei termini della commedia e quindi abbiamo il burbero un po' arrogante dei tirocchi ah no non è tirocchi scusa Donnino ogni tanto mi confondo è l'arroganza poi abbiamo il buffoncello mauricheno Riccardo e poi abbiamo che so io la disponica non si può dire che dovrebbe dipare e quindi questi personaggi un po' disegnati in maniera leggera nella seconda parte affrontiamo la concretezza della storia qui andiamo ad affrontare proprio la tematica e la tematica bene o male ti porta comunque ad affrontare degli argomenti e delle riflessioni anche perché oltre al racconto di quello che non ci torna in alcune strutture e sovrastrutture e poi c'è anche quello che non ci torna nella vita di ognuno di noi tutti e tre i protagonisti hanno qualcosa di non risolto e di non confessato di non detto quindi sotto finale si diranno determinate cose che porteranno a questo crack niente di particolarmente drammatico siamo in chiusura dell'intervista volete invitare il pubblico a venire a vedere Quasi Quasi Ci Ripenso? no no non lo vediamo allora non ci andrete però diciamo anche che siamo in chiusura di stagione poi voi col teatro vi fermerete un po' e allora rimanete con un bel ricordo del Teatro Martinit fino al 2 giugno siamo qui con Quasi Quasi Ci Ripenso e vi aspettiamo Teatro Martinit ciao Alessandro Tirocchi Maurizio Paniconi Valeria Monetti grazie a tutti ciao ciao